Ciao ragazzi, ci siamo, siamo al giorno 20 di 21, sono molto contenta perché siamo alla fine, penultimo giorno del nostro Punto Vita Challenge, ricordando che quello che ci premia sempre sarà la costanza. Cominciamo semplicemente a fare un dondolo, io a richiesta di alcuni di voi ho deciso di mettere il challenge sul mio canale YouTube, troverete i challenge già prime tre giorni online, da oggi alle 18 ogni giorno un altro challenge sarà pubblicato fino ad arrivare 21, così avete anche la possibilità non solo di salvare questo video qui, ma di portarlo avanti e ritornarci sopra volendo in seconda battuta. Con il mio YouTube, così ce l'avete tutto impacchettato insieme, facile da trovare, facile da seguire e facile per avere i risultati. Allora numero uno, mandatemi i cuori per favore, io voglio vedere i cuori e voglio sapere dal nostro cuore, dai dammi i cuori, dammi i cuori, vediamo se mi dai i cuori il mio Facebook, non mi sta dando i cuori oggi, non la legge, me l'ha data, me l'ha data i cuori, ok eccoci qua. Allora ragazzi, quanti di voi avete fatto le foto prima e dopo? Questa è la prima cosa, avete già scattato le foto, avete fatto girovita, avete visto come sta cambiando il vostro corpo? Scrivete, scrivete, ti prego, io ho bisogno di sentire un po' di amore, un po' di cuori anche da parte vostra e poi ricordate di salvare questi video. Sono 21 video, non sempre tutti i giorni, un po' per lavoro, un po' perché anch'io ogni tanto una domenica di Pasqua non lavoro, ma per il resto ci siamo quasi, penultimo giorno. Anche ricordando un'altra cosa, onestamente io potrei darti un allenamento, o massimo 3-4 allenamenti e se andavi proprio a ripeterli, uno, diciamo 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, per tre settimane avresti avuto comunque gli stessi risultati. Però andiamo avanti, vi conosco, io ieri mi sono anche messa un po' a ridere perché ho messo i challenge online, sono online, sono qui sulla mia Facebook, ho messo le prime tre, non ho messo tutti insieme già da blocco. Uno dice, ma gli altri sono ancora privati. Ho detto, ma la gente è bulimica di allenamenti. Allora, mi rendo perfettamente conto che è divertente di andare in palestra e avere sempre l'insegnante che ti sprona, che ti stimola. Questa fa parte del gioco, sì, però ricordate che poi alla fine il corpo ama la costanza e ama anche la ripetizione, per almeno anche 8-12 settimane. Se tu vai in palestra e ti danno la scheda, la scheda dura per X settimane e fai la stessa scheda cambiando semplicemente l'intensità o la resistenza, aggiungendo peso. Così noi, cioè il corpo, se mi alleleno una volta e poi non ci torno sopra, il corpo non fa un cambiamento sistemico. Si cambia quando noi abbiamo convinto il corpo che qua c'è da crescere in una zona specifica perché c'è effettivamente più allenamento da fare. Così il mio invito è sempre di fare allenamento tutti, tutti, tutti i giorni. Poi mi fa ridere quando la persona dice, ah, entrerò in super allenamento. Ragazzi, per entrare in super allenamento devi essere Alex Schwarzer, devi fare tre ore di giorno, devi essere un campione all'impionico, devi allenarti due o tre ore al giorno a livelli inverosimili. Non sono 15 minuti che ti manda in super allenamento, ti manda in super allenamento ore ed ore di allenamento. E questo di solito per chi lavora nel settore o di fitness o come un atleta, diciamo, professionale agonistico. Continuiamo con le nostre spalle, continuiamo con il nostro allenamento e mi raccomando salvate questi video perché quando salvi questo video lo potete ritrovare con facilità e siete sempre pronti per il vostro allenamento quando volete, come volete, durante l'arco della vostra giornata. Ancora per quattro, ancora per tre, ancora per due, ancora per uno. Avete visto che c'è, allora scendiamo sulle gambe, avete visto qua c'è un po' di nuvolo qui a Fuerteventura però di solito si apre verso le 10 così mi porto anche delle nuove challenge. Allora, sulla mia palestra online, now, gilcuber.com, c'è challenge di aprile, 10 minuti al giorno, super 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 concentrati. 10 minuti di gambe, 10 minuti di glutei, 10 minuti di abdominali, 10 minuti mirati proprio per andare a convincere quei muscoli che si stanno cambiando e che si stanno, diciamo, hanno bisogno di essere fortificati perché tu stai allenando di più. Ecco, grazie per i cuori, grazie mille. Chi me le sta mandando questi meravigliosi cuori? Grazie Rosita, già, ciao Vale Valentina, ciao Monica, ciao Monica, ciao a tutti, che bello a vedervi, a vedervi e diciamo allenarmi con voi. Su now avete questa challenge che ti permette in 10 minuti, anche quando ti scegli di non avere tempo, almeno 10 minuti. non devi uscire di casa, non usciresti mai di casa per fare 10 minuti, perché il tempo di scendere nell'andreone, uscire di casa, ha già passato due minuti, devi risalire, sono due minuti, così praticamente ti perdi più tempo per uscire di casa che di fare l'allenamento. E voi volete sapere la verità? Il segreto di cambiare è lì. Io ho anche diversi, diciamo, professionisti che dicono, ah, con 5 minuti non cambia il corpo, non cambia il corpo, cambia la disciplina, cambia la voglia e cominci con 5 minuti. Perché cominci con 5 minuti? Perché con 5 minuti non ti pesa, con 5 minuti tu cominci, è già finito l'allenamento, avrai un picco di dopamina e il tuo cervello dice, ah, bello, ho fatto qualcosa per me, parti, cambi, vai, fai la tua giornata. Lo fai per due settimane, questi 5 minuti, poi ti garantisco che comincerà a dire, no, aspetta, faccio 7 minuti, ah, no, aspetta, voglio fare 10 minuti, ah, no, aspetta, vado a fare una camminata. Perché tu stai creando un nuovo, neural pathways, che vuol dire nuova via dei nostri neuroni, che ci dicono, ah, non sono un antiesportivo, io sono uno sportivo, ergo, mi alleno tutti i giorni. Poi l'altra cosa, oggi stesso ho visto, diciamo, un video di Mick Jagger, che a 80 anni stavo bailando come una furia, e io dico, vedi che il movimento è importante per mantenere la massa magra, la flessibilità, la mobilità, e invecchiando abbiamo questa meravigliosa scelta, la scelta è vivere in una discoteca o vivere dentro una prigione. E queste sono le scelte, invecchiare o rallentare il processo di invecchiamento e rimanere attivi, e secondo me attivi è più bello perché è più divertente. Continuiamo per 8, e per 7, e per 6, e per 5, 4, e in 3, e in 2, e stop. Ok ragazzi, abbiamo fatto i nostri 5 minuti, ventesimo giorno di 21, misuratevi sempre questi risultati, lo sto mettendo online su YouTube così se volete rivederli ce li troverete qua, e grazie Eleonora, sono contenta che ti piaccia la raccolta dei video, lo farò da adesso un po', così avete i playlist anche su YouTube, così potete trovarli tutti aggruppati, ma mi fate la cortesia, me li condividete questo video sul vostro baccheca per Jill, per un favore verso di me, vi ringrazio, mandatemi i vostri cuoricini, mandatemi la vostra positività, vi voglio bene, e adesso vado a girare il mio prossimo challenge per now, perché guardate che bellissima, aspetta mi sposto, guardate che bellissimo panorama, così vado a fare un po' di lavoro per la mia palestra online, con questi paesaggi molto fiato, e per adesso passate una giornata figatosa, baci dalla Jill.